quel numero non è niente è tutto fra le righe è la sintassi è quello che esiste tra le cifre e se voi non l'avete capito è perché non siate voi i prescetti l'ho trovato io l'ho trovato io e io solo l'ho capito sarò io a vedere Dio rabbino il tuo Dio ha scelto me e 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 il tuo Dio ha scelto me Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.